La natura si preglie Il diritto non fa la magna La tanquata si prego Il interprete non fare la 98 La Lanzatrinzo Gli annacci alla maniera di Genio e Pio Azzurro Si potrebbe andare tutti quanto lo so comunale Per vedere come stanno le pesche perosci e gridare aiuto aiuto e scappa a Pugnone per vedere di nascosto nel freddo che fa a Pugnone Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.